Eccoci qui con il dottore Parsi, vorremmo sapere come sta andando questa affluenza in questa struttura del giornata mondiale del RENA. Anche quest'anno grande successo, veramente tante persone che con qualche minuto di coda, non di più, stanno usufruendo di questo servizio totalmente gratuito. Ci vuole davvero molto poco, si viene in piazza fino alle 18, 5 minuti del proprio tempo, facciamo un prelievo di sangue, un esame delle urine, una misurazione della pressione. Dopodiché i dati saranno consegnati a breve e ognuno delle persone che viene a sfruttare questa iniziativa potrà sapere se il suo RENA funziona bene o meno. Fino a che ora procederà l'attività qui in piazza? Bene, fino alle 18 saremo qui, saremo una non stop. Chi vuole può soffrire anche della pausa pranzo per venirci a trovare. Come accorre arrivare qui oggi e negli altri giorni? Possono venire le persone sia a digiune sia che abbiano mangiato, non è importante per fare il prelievo. Possono venire persone di qualsiasi età, dal più giovane al più anziano, i minorenni accompagnati da un genitore per l'autorizzazione. Vi aspettiamo, vi aspettiamo tutti, sia che abbiate già conoscenze di una malattia renale, sia che non l'abbiate, sia persone che hanno malattie predisponenti verso l'insufferenza renale come i diabetici, gli ipertesi, ma anche quelli che non hanno queste patologie. Abbiamo dei costi di pagamento su qualcosa? Assolutamente no, l'esame è gratuito. Servizi sanitarie alcamesi con la collaborazione del dottore Venza si fa carico dell'iniziativa. Siamo collaborati dalla Croce Rossa che ci dà davvero un grossissimo apporto umano, logistico. Devo dire che è già un grande successo nella prima mattinata di questa ennesima giornata mondiale del Rene, che la servizio sanitaria alcamesi onora ormai da molti anni qua ad Alcamo, in Piazza Ciullo. Anzi, esortiamo ancora per il resto della giornata, ma non solo, per il giorno 10 e 11 di marzo, e anche presso la nostra azienda in corso del numero 184, continueremo appunto questa prevenzione gratuita che facciamo nei confronti di tutti i cittadini alcamesi. La malattia è silente, non dà nessun campanello di allarme. Beh, ha assolutamente ragione perché interviene su una serie di organi del nostro corpo che maturano questo tipo di problematica nel tempo, ma i sintomi attraverso la prevenzione si possono assolutamente già in qualche modo prevedere. Penso che anche quest'anno riusciremo a bissare questa posizione importante nel panorama italiano, ma anche secondo me frutto di un lavoro che nel tempo, già da oltre 30 anni, lavoriamo in questo senso, facciamo in termini di divulgazione di una corretta cultura della prevenzione. Quindi devo dire che gli alcamesi sotto questo punto di vista sono molto più vicini e sollecitati rispondono meglio.